La nostra partecipazione come Telecom Italia al Banking Forum 2014 ha una doppia valenza. Innanzitutto come rappresentanti di un'industria che sul tema della digitalizzazione, del business digitale, è già partita da qualche anno, non fosse altro per la tipologia di servizi e prodotti che noi commercializziamo. Inoltre crediamo di poter giocare un ruolo importante nel supportare il mondo del banking, nell'intraprendere e sviluppare questo percorso. Questo per una serie di motivi, innanzitutto perché riteniamo di star rivolgendo un ruolo importante per abilitare l'accesso ai nuovi business digitali attraverso lo sviluppo delle nuove reti a larga banda, quindi sia la rete radiomobile di quarta generazione, quindi l'LTE, sia il nuovo sviluppo della rete in fibra ottica, la Next Generation Network. Siamo poi con Nuvola Italiana, che è la nostra piattaforma che abbiamo lanciato nel 2010, siamo il primo operatore cloud italiano. Riteniamo che il cloud sia realmente una delle tecnologie abilitanti per supportare le banche verso questo nuovo modello di trasformazione. Quelle che sono le nostre infrastrutture sono poi comunque in ogni caso veicolate anche attraverso una serie di servizi di supporto e di gestione che ci permettono quindi di avere un'offerta e una proposizione, non soltanto di infrastrutture, ma anche di infrastrutture gestite da poter offrire quindi ai nostri clienti. Stiamo guardando anche alle nuove prospettive, che si aprono ad esempio partendo con alcuni temi innovativi come l'identità digitale, che permetterà non soltanto di abilitare il colloquio dei cittadini con la pubblica amministrazione, ma anche di facilitare le transazioni dei cittadini con le banche e con le grandi imprese. Grazie a tutti.